L'Italia ha dimostrato ancora una volta, casomai ce ne fosse bisogno, la sua capacità di essere all'altezza e di organizzare eventi di questa straordinaria rilevanza. Deve essere motivo d'orgoglio per tutto il popolo italiano, noi spesso, diciamo così, ci dimentichiamo di ciò di cui siamo capaci, ma oggi è giusto sottolinearlo perché credo che oggi sia sotto gli occhi di tutti. Fiera del lavoro che abbiamo fatto, sono molto fiera del successo di questo vertice, l'Italia in questi giorni è chiaramente stata al centro del mondo, gli occhi del mondo sono stati puntati su di noi, era una grande responsabilità, ma sono davvero orgogliosa di come la nostra nazione sia riuscita ancora una volta a stupire e a tracciare la rotta. Grazie a tutti!